Abbiamo chiuso il 58esimo faro, due giorni intensissimi, produttivi, con una metodologia forte, ribadita in ogni singolo intervento, in ogni singola sessione, principi chiari che sono emersi. Bisogna essere bravi a fare le cose difficili, dobbiamo essere oltre la realtà e lo dobbiamo fare condividendo tutte queste conoscenze e portandole a sempre più aziende sul territorio. Per cui un grosso grazie a tutti i partecipanti e contributori e un arrivederci al 23-24 giugno al Faro 59 che si terrà a Pesaro.